C'è il 24 tempi su quattro muri. Facciamo prima con i bassi e poi con il conteggio. Tacco dentro, giro, dietro, punta, step, block, step, cap, incrocio, apro, incrocio, punto, incrocio, apro, incrocio, cambio. E adesso lo facciamo con il conteggio. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E adesso lo facciamo con la musica. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 5, 7, 8, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 8. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.